L'itre di frazione di democrazia realta insistì, però non ha la reazione del ministro di Asunto Económico di un'appellazione per il Parlamento. Il parlamentario di oposizione spera di avere informazione attuale del desarrollo di rifineria dopo che il governo firma un pacto con il setto. Awe, sta assinando le occhi di un rappresentante di una compagnia in Arruba, però non è ancora il ministro di demesa per il Parlamento. Il parlamentario Bécart avisa che di un differente pregunte valido e si manca che ancora avvolta per la reazione di un ministro di Asunto. Il ministro di Asunto Económico ha detto che il ministro di Asunto Económico ha detto che il ministro di Asunto Económico ha detto che la situazione di rifineria e si manca che ancora di Bécart insistì per il ministro di Asunto di Energia presentato in Parlamento. Secondo Andin Bécart, a base di un mozione con su fraccione presentata in Unipassà ha insistito a formare un comissione di parte del governo per dare un senale positivo nel settore petrolero global. E sai che, secondo Bécart, ha conducito di un differente partito a mostrare interesse per la reapertura di rifineria. Il 22 di settembre, il governo ha firmato un memorandum of understanding con la CETCO Petroleum Corporation. E sai che di un palabrazione per la compagnia subsidiario di PDFSA realizzare un'evaluazione tecnico di condizioni di rifineria e averiguare la factibilità economica di sa qui. Non obstante sa che il parlamentario di democrazia realta qualifica come falta di rispetto e il ministro di Asunto Económico non ha informato il Parlamento del Desarrollo e che il contenuto del MOU. Ma che sei, il parlamentario Bécart che sa che il processo non sucessivo con il nostro luogo e, ademais, il governo ha un plan B in caso di cui è un'oportunità nuova qui non dà un risultato. Il governo responsabile ha un plan A e il plan B in vista dei miembri di Staten. La democrazia reale che sa si è valore di un accord con il processo di riapertura e che co'appara con il plan di desmantellazione di rifineria. Il governo ha visto qualcosa e il valore di fare qualcosa di altro, creando più interroganti che senza risposta. Il governo ha ancora più interessato e il governo ha visto che il governo mantenere la loro opzione di abri, che assicurare che sia una riapertura di rifineria. Come rappresentante di Pueblo e leader di fraccione, Tavisa, di Italia, pregunte a un'arrivo assunto, però c'è ancora la sua unica fuente di informazione che si sta a mezzare di comunicazione e non ha una banda di governo. Secondo Bécart, è che non di maniera con la nostra democrazia parlamentare che si sta a mezzare di rifineria operazionale. Grazie.